I mestoli di legno sono tra gli utensili che usiamo più spesso in cucina, per tanti tipi di preparazioni diverse. Questi utensili, anche se lavati e asciugati dopo ogni utilizzo, finiscono per impregnarsi di oli e sporco grasso che non risulta visibile all'occhio. Per scoprire quanta sporcizia si annida tra le fibre del legno, basta però usare un metodo, ragazzi, un metodo infallibile. Basta far bollire l'acqua e inserire all'interno i mestoli in legno. Quando l'acqua raggiunge l'ebollizione, metto i mestoli in legno, li lascio circa due minuti mentre l'acqua bolle e poi spengo la fiamma e li lascio praticamente dentro la pentola a fiamma spenta. Ragazzi, se il mestolo risulta impregnato di olio o di sporco che non è visibile all'occhio, verrà, diciamo, fuori a galla e l'acqua comunque si colorerà un poco. Qui ho messo il secondo attrezzo di cucina in legno e infine metto questo mestolo in legno che solitamente utilizzo per creare i miei fanghi all'argilla oppure le mie creme particolari, sempre con argilla o altri elementi naturali. Come vedete, quando ho inserito questo mestolo che utilizzo per i miei metri naturali, l'acqua un poco si è colorata, ha avuto, diciamo, una reazione. E quindi, ragazzi, se volete eliminare la sporcizia che si annita tra le fibre del legno, basta usare questo metodo dell'acqua che bolle. E voi conoscevate questo metodo? Se conoscevate questo metodo, mi raccomando, lasciatemi un commento e fatemi sapere cosa ne pensate. Che dirvi? Io spero che questo video vi sia utile. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale YouTube Cartesia e attivate la campanella, perché se attivate la campanella, ogni volta che pubblico un video, vi arriva subito la notifica e quindi non perderete neanche una videoricetta.